Ah, iniziamo? Che ne pensi? Non mi sento, che ne pensi? Non mi senti! Ehi, per ora che la miscola non ci sono, allora non ci sono. Voglio stare a trovare, eh? Stiamo facendo delle fotografie, eh? Patrenio, visto che c'è il microfono, ci vuole spiegare che cosa sta succedendo? C'è il microfono del campo. Allora, questi sono i giochi in stipi organizzati dalla parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo che sono otto incontri, otto incontri divisi in otto squadre i ragazzi e dureranno dal 15 giugno al 15 luglio. La terza edizione hanno un titolo, Punta in Alto, che è il titolo poi che ha accompagnato il cammino dei ragazzi dell'ACR di quest'anno. Quindi buon divertimento. Grazie. Sento la fatica del cammino in salita e do paura di perdermi, se guardando avanti la tua strada è smarrita, non ti devi abbattere mai, proprio mai. Scegli con saggetta il sentiero migliore, sempre ascoltando la parola sua, quando tanta nebbia coprirà il tuo obiettivo, non ti preoccupare perché con l'acr basta poco sai, mettilo il taino in spalla e canta con noi. Fai un passo dopo l'altro, prendiamoci per mano, la mente più vicina, perché tu sei con me, segui sempre la sua strada, che adesso si dà, che adesso si dà. Coraggia punto in alto è la tua libertà. Dopo tanta strada fermati e prendi fiato E la natura ti avvolgerà E la tua fede, la tua meta oramai Fai un passo dopo l'altro, prendiamoci per mano La vetta è più vicina, perché tu sei con me Segui sempre la sua strada, che adesso si va Corazzo contenato, è la tua libertà Batti in mani, piedi in terra Urla forte, ACM, pronte a ripartire C'è un segreto, per andare Più leggeri, più lontani Conce il suo, per camminare È solo lui l'essenziale Segui sempre la sua strada, che adesso si va Corazzo punti in alto, è la tua libertà Fai un passo dopo l'altro, prendiamoci per mano La vetta è più vicina, perché tu sei con me Segui sempre la sua strada, che adesso si va Corazzo punti in alto, è la tua libertà Allora questo è il gruppo dei più piccoli Siamo in 50 e sono dai 4 ai 8 anni Facciamo tanti giochi, sono giochi educativi Giochi di squadra, giochi singoli Dopo facciamo il gioco dei ceci, il gioco delle ciliegie Vero? Il gioco della caprese Poi il gioco dei ceci E poi che altro gioco? Fatemi ricordare voi Quello del cucchiaio con l'uovo Ve lo ricordate? L'altra volta che abbiamo fatto? Le cosa? Ah il gioco dei sacchi Il gioco degli asinelli Il gioco della cioccolata Tutti i bambini quando ne sono tutti quanti? Ah tutti quanti sono 150 Sembra, i grandi pure con i grandi Questo gruppo qua sono 54 I più piccolini Dunque le date non me le ricordo precise Però sono 4 incontri a giugno E 4 incontri a luglio Nel laboratorio delle arti Dove ci sarà una festa conclusiva Va bene?